Hai dei corvi? Camminavano, camminavano in riscaldamento. Secondo me è un pavimento pure. Questi di casa domani? No, per me è un pavimento. Non erano così, erano più dipinte. Questo vedi che è un mosaico di un pavimento. Vabbè, non è che debbano essere tutte iperdipinte, ipermosaicizzate? No, dicevo, genericamente, essendo un mosaico, fa pensare più a un pavimento, perché in genere i romani dipingevano le pareti, non era usuale.